Uscita istituzionale oggi per il direttore dell'ASL4, in un giorno troppo particolare per restare in ufficio, lo confida agli amministratori di Cogorno che incontra per un giro sul territorio comunale. Visita la sede della Croce Rossa, il centro Fiordaliso per i malati di Alzheimer, dove tutto si è fermato il 6 marzo 2020, quando si è svolta l'ultima attività di animazione. Parla con i volontari, il parroco e il sindaco. Ho trovato una bellissima realtà operativa, solidale, coesa, che è pronta già a vaccinare, infatti ha iniziato già presso la sede della Croce Rossa questo servizio per i cittadini over 80, ma presto seguiranno anche i cittadini tra 70 e 79 anni e noi provvederemo a garantire linee di assistenza, linee di copertura vaccinale per loro quanto prima. Il sindaco chiede sostegno per l'adeguamento della piazzola dell'elisoccorso, considerata strategica dal direttore Petralia anche in prospettiva futura. L'area va resa però funzionale con alcuni interventi, tra cui l'illuminazione notturna. Di questo e altri progetti si è concentrata la conversazione. Gino Garibaldi ha auspicato una continua collaborazione con la ASL. Mettiamo a disposizione la nostra collaborazione, anzi al direttore, diciamo, davvero faccia collegamento con i sindaci perché sono quelli che comunque poi fanno da filtro con i cittadini. Le notizie devono essere passate tra le istituzioni prima di tutto e questa è la cosa più bella che possiamo dire che dobbiamo portare avanti.